Tuono è un gattino abbandonato dai suoi padroni. Ehi, aspettate! Solo e impaurito, si rifugieranno in un'antica dimora di un vecchietto con una passione, la magia. Finalmente, Tuono troverà una famiglia davvero molto speciale. Riusciranno tutti insieme a impedire al nipote di vendere la casa. Entra anche tu nella magia grazie al 3D. In prima visione, il castello magico. Mercoledì 30 alle 21 su Sky 3D e Sky Cinema Family HD. Grazie. Grazie.